Sempre al padiglione di San Marino dell'Expo, al Cluster Biomediterraneo, è stata anche una giornata dedicata al fitness e all'innovazione tecnologica. Blue Fitness Expo Special Edition, questo il titolo dell'elento protagonista di giornata nel padiglione di San Marino. 50 istruttori di fitness per un giorno sono stati allievi di 4 docenti federali che hanno illustrato alcune innovative short class di yoga, pilates, allenamento metabolico e postural. L'iniziativa è stata promossa dalla FIF, la Federazione Italiana Fitness, in partnership con Creosoft, una software house sanmarinese che ha inventato AppFIF Training, un'applicazione per tablet e smartphone che permette a chiunque di avere sui propri dispositivi schemi di allenamento realizzati da professionisti e fruibili in qualsiasi momento. Una scommessa, dice Davide Casadei Valentini, presidente di Creosoft, destinata a mandare in pensione i DVD nel fitness. Alimentazione e sport, ha osservato il commissario del padiglione Mauro Magliani, sono due tematiche vicine in Expo ed importanti per il futuro San Marino. È lieto di esaltare oggi, grazie a voi, questo connubio. Grazie a voi, grazie a voi.